ed eccoci qua carissimi amici buon pomeriggio qua con già con il cagnolino che mi sta disturbando sono penetrato di nuovo in questa zona qua dal nostro amico meccanico dove siamo arrivati con marvin la simo è qua ma un po paurita dai cani la simo ecco qua no amici ciao eccoci qua carissimi amici la diretta tra campagna qua un po dal meccanico ecco vi volevo far vedere una bella accoppiata guardate qua carissimi amici la diretta che cosa ci sta regalando ecco il cane si è allontanato ma sai che anche il cane fa compagnia alessio piace da il cane da sottofondo guardate qua carissimi amici la diretta questo fiat 131 mira fiori l guardate qua carissimi amici ecco l'innocente guardate la accoppiata la parte posteriore ovviamente scomoda come al solito alessio trova sempre la scomodità sui suoi filmati guardate qua la simo qua fantastico guarda qua l'altra volta avevo lasciato indietro il filmato guardate carissimi amici per voi la diretta gustate qua nella zona qua nelle nostre zone qua fantastiche qua sono penetrato dal meccanico qua dal mio amico perché ho occhiato la 124 che ho fatto le foto da poco l'ho vista qua sono entrato di nuovo e ho colpito ho colpito colto l'attimo del filmato guardate qua carissimi amici per voi in questo stato di abbandono totale guardate fiat 131 guardate qua andiamo a vedere qualche dettaglio se riesco perché come vi ripeto un po scomodo alessio è sempre scomodo qua guardate qua non è diventata una gara qua con marvin però questo ve lo devo far vedere guardate carissimi amici la diretta qua non so se gianni mi dice qualcosa ma credo stava parlando a telefono però già avevo chiesto l'ordine ecco simo ti sto inquadrando e guardate qua carissimi amici la ruggine qua sicuramente ci ascoltano ci prendono per pazzi ma pazzi per passione come vi ho sempre detto ed ecco qualche cosa vi sto regalando non so se qua marvin ha già colpito con il filmato ma credo di sì perché io ero impegnato con le foto e sono penetrato oggi che sono vicino ma purtroppo lui la lontananza del marvin per lui è un po' proprio un po' problema qua ed eccola qua carissimi amici tutte per voi questo innocenti guardate fiat 131 una bella copiata qua in uno stato di degrado e abbandono ciao a tutti entriamo entriamo un attimo andiamo se è aperta andiamo all'interno il 131 dai qua andiamo andiamo un po' a lungo con i filmati qua dopo stanchiamo dopo ci prendono per pazzi guardate qua carissimi amici la diretta guardate ecco qua simo la diretta ci apre guardate ed eccoci qua guardate carissimi amici l'interno eccolo sentite il profumo del tempo guardate qua ecco adesso il pazzo che lo stanno guardando ovviamente però non lasciamo indietro niente guardate qua ecco qua all'interno guardate fondi qua un po' sono andati ovviamente guardate qua per voi carissimi amici eccolo qua la leva ecco qua la leva andiamo a trovare i dettagli no perché il dettaglio è quello che fa è la cosa che fa più arte guarda qua simo qua lascia la porta aperta qua eccoci eccoci qua fantastico fantastico guarda qua veramente veramente fantastico guardate l ecco qua fiat 121 l guardate la pazzia di alessio che non ha vergogna colpisce sempre guardate qua carissimi amici ecco tutta per voi bene vi faccio un bel saluto da queste splendide auto guardate qua ciao a tutti qua dal meccanico vi mandano un bel saluto tutti quanti ciao martin ci vediamo alla prossima forse a breve avremo il pullman è già volevo ve l'avevo detto ciao a tutti alla prossima